buon ciao a you benvenuti dal vostro nonno della rete in questa nuova dec profile che vi ho portato il mio nuovo mazzetto oggi mazzetto molto molto figo che ho voluto creare e mi è piaciuto molto for fan però ci può stare meglio della vecchia versione e niente ovviamente siamo in m20 ed è uscito tanti nuovi place walker tra cui chandra cuore di fuoco che cosa fa due mana rossi trincolore cinque segnalini fedeltà a due più uno quindi il primo ci fa scartare la mano e poi segnare le prime tre carte del nostro deck e fino a fine del turno le possiamo giocare in questo modo con più uno possiamo infliggere due dati un qualsiasi bersaglio e con meno 9 una ultimate non troppo forte però non si sa mai che fa passiamo in assegnare il nostro cimitero e grimorio cercare un qualsiasi numero di carte istantaneo e o stregonerie rosse e si reale e poi le potete arrangiare in questo turno e aggiungiamo 6 mana rossi ogni volta dico lanciare se non c'è scritto gratis o senza pagare il costo di mana veramente si deve sempre pagare il mano quindi lei e chandra non sarà sola perché alle altre versioni è ritornato il deck di chandra però ha la buona compagnia di altri due press walker khan e hugin però hugin quello vecchia vecchio stampo credo che dovesse conoscere tutte tutti i vari press walker vabbè andiamo a fare un riassumo 2 mana rossi un incolore la chandrina entra con quattro segnali fedeltà o diamo un segnalino place walker a tutti a tutti press walker rossi che controlliamo un segnalino fedeltà quindi lei prende cinque perché è a zero e aumentiamo i nostri press walker rossi o creiamo due pedine elementare uno uno rapide che dobbiamo sacrificare fino alla fine del turno o con meno due possiamo lanciare una carta di stagno stregoleria con cosima da convertito pari inferiore a tre e poi esiliarla la chandra uncommon costa quattro entro con cinque segnali di fedeltà con più uno non ci interessa dare più due più zero agli elementali tranne se non dobbiamo fare proprio una combo coloro due con meno uno ci da due mana rossi è già più interessante con meno due facciamo due danni un qualsiasi bersaglio cosa che con mano in più ottimizziamo perché diamo più uno con la nuova chandra c'androna invece costa semana entrò con sei segnali di fedeltà non può essere neutralizzata cosa ottima con più due mettiamo un segnalino emblema un emblema che all'inizio del mantenimento il suo controllore si becchera un danno cioè lo mettiamo all'avversario ovviamente l'embrema con meno tre facciamo tre danni ogni creatura un elementare perciò un master mobile e con meno x andiamo a sparare x danni a creatura o place walker e se quel permanente va nel cimitero verrà esiliato poi montiamo ukin sembra una settimana per però più perché con meno tre spacca un qualsiasi permanente bersaglio colorato e con più due no scusate con più uno mette una pedina due due come prima carta del deck e quando quella carta lascia il gioco l'andiamo ora aggiungiamo la mano e infine can card di statico abilità statica disattiva tutte tutti gli artefatti dell'avversario c'è non potete più le abilità attivate ricordiamo che invece l'abilità statica di ukin che con canva in combo ci fa pagare le carte in colori due meno poiché fa canno con più uno anima un qualsiasi artefatto che controlliamo trasformandolo in creatura artefatto con forza e costituzione pari al suo costo di mana come lo due ci andiamo a cercare dalla side un artefatto qualsiasi quindi montiamo due cendrine piccole perché alla fine tra il zero e meno due il primo zero e il meno due quello che ci interessa fa poco c'andrà ancomo ne montiamo tre perché ci interessa più fare meno uno per arrivare sicuri a sei o sette male poi andremo a vedere perché tre candra nuove fighissimo questo artwork tre c'andrà nuova perché ci può andare farci pescare in certi casi che finiamo la mano con più uno scartiamo mano peschiamo tre può essere molto interessante tre candrone perché la dobbiamo trovare è l'unico master mobile che abbiamo e poi può essere una finisher anche contro contro tre canno ci abbiamo ci ho basato un bel po del deck e due ugin come un altro e mobile e in più ci può far pescare grazie a sua abilità o ci fa pagare in meno le carte in colore che ci andremo a trovare con carne le altre carte ombre swore che abbiamo ovviamente se è il rosso ci sono gli spari 4 shock 4 giganti splice la ossa 4 trionfi di chandra due mani sandagno fa tre danni se controlliamo un place walker chandra ne farà cinque poi bellissimo artefattino nuovo il tomo cervellotico con due mani in colore è un artefatto costo rimane in colore tappiamo mettiamo un segnalino pagina sul tomo e profetizziamo tappiamo due tappiamo le mette un segnalino pagina sul tomo e peschiamo una carta quando arriva con quattro più segnalini guadagniamo esiliamo guadagniamo quattro punti vita carta molto interessante soprattutto utilizza con i tre regolatori di chandra un artefatto leggendario che ci fa oltre a scartare pescare ci fatto duplicare una qualsiasi abilità dei nostri press walker abilità di fedeltà pagando uno in più quello che vi ho detto che se noi facciamo con lei in gioco arriviamo a fare ad avere lei possiamo fare candrona e poi duplicare anche la sua abilità però oltre a quello ci ho voluto montare anche due prudezze ferro picco per far sì di giocare al quarto turno o candrona o ugin che può essere veramente molto interessante perché con quattro mana andiamo a fare sette se abbiamo in gioco idem possiamo anche sprecare un male in meno però fare quattro danni una creatura o pescare sei e può essere molto figo e ci velocezza un po le carte oltre che con con lei e con canno possiamo andare a cercare artefatto dalla side prima di vedere la side andiamo a vedere un attimo la mana base che è molto facile sono 25 terre tra cui quattro farite del planari per guadagnare punti vita perché è più o meno un control due campi della rovina per spaccare terra con base avversario fastidiosa e ci andiamo a cercare terra base no terra base entrambi è un bacione di canno per metterse segnalino proliferare non ho voluto rischiare di metterlo più mani in colore perché voglio trovare le montagne anche per il dove sa il regolatore di chandra che dice scarta montagna o scarta carta rossa perché abbiamo sei nove dieci 18 terre terre montagna e 25 terre in totale quindi con cambio ci possiamo andare a cercare vabbè ovviamente un regolatore poi abbiamo che manca il quarto regolatore abbiamo due lancia delle tenebre la vogliamo trovare per le varie indistruttibilità o a di malocchio alle carte dell'avversario uno in particolare la pescatrice due mastico le caccia scintille per andare a sparare i press walker dell'avversario a protezione da press walker 3 ma la 34 e in più può prendere anche indistruttibilità una cambia del becchino contro i mazzi gatto forno cittadella di bollas eccetera l'antenna item mazzi con fuga esiliare e poi ci fa pescare anche una carta due serpe della litospire per avere una bella creatura forte con protezione da multicolore raggiungere e travolgere due golem meteora che spacca qualsiasi permanente non terra e lo stesso con lei quattro mana dopo che abbiamo giocato lei possiamo andare a cercare il turno dopo una golem e giocare a quattro mana il golem meteora due cannocchiari per disattivare una qualsiasi abilità attivata che ci dà fastidio press walker o di creature è dato tranquillante ci fa pescare una carta sacrificando non facciamo stappare una creatura dell'avversario perciò ci fa guadagnare diciamo un turno per poi risolvere quella situazione decco molto for fan però fico il rosso da un colore che è utilizzato poco però ci sto facendo un sacco di decco diversi soprattutto non agro se non devo portare il mazzo particolare sicuramente porterò un mono goblin standard fatemi sapere cosa ne pensate lasciate un like iscrivetevi al canale commentate richiedete il vostro deck sempre a disposizione il vostro dal vostro numero della rete tutto bella voglio